Musica Naufragio a steccato di Cutro, ritrovati altri 5 corpi, le vittime salgono ad 86. Risultano ancora altri dispersi. Incidente mortale allo svincolo di Rosarno sulla A2 del Mediterraneo. Muore una donna di 56 anni. Il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio dice no alla mafia. Inaugurazione del nuovo allestimento per il cippo miliario di Santonofrio. Salve e ben ritrovati con una nuova edizione dell'informazione di Calabria TV. In apertura del nostro giornale la tragedia di steccato di Cutro. Altri 5 corpi senza vita sono stati trovati nell'area del naufragio. di migranti è avvenuto il 26 febbraio scorso. Si tratta di un bambino tra i 7 e gli 8 anni, di una bambina di circa 3 anni e di 3 adulti, due uomini e una donna, di cui ancora non si conosce l'età. Il corpo del piccolo è stato individuato a Praia Longa. Sul luogo degli ultimi ritrovamenti si sono recati il medico legale, gli esperti della polizia scientifica, soprattutto per l'accertamento dell'età delle vittime. Salgono ad 86 le vittime recuperate dai soccorritori che, dal giorno della tragedia, setacciano il tratto di mare e la spiaggia. L'ultima giovanissima vittima accertata del naufragio è la 35esima minore, la 26esima compresa nella fascia di età tra 0 e 12 anni. E intanto continuano le operazioni di trasferimento delle salme del naufragio di steccato di Cutro dal pala Milone di Crotone, utilizzato come camera ardente sin dal giorno della tragedia. Procedono le operazioni per il trasferimento delle salme delle vittime del naufragio di steccato di Cutro. Al pala Milone di Crotone è stato utilizzato proprio come camera ardente proprio sin dal primo giorno della tragedia. Ieri mattina c'erano 28 salve, proprio ieri sera sono state trasferite 9. Per le altre le spateo è previsto tra domani e dopodomani. Delle 28 salme, una andrà in Pakistan, l'altra in Palestina, 4 in Iran e 22 in Afghanistan. Nell'impianto sportivo restano ancora comunque da identificare cinque corpi, compresi due recuperati. I lavori dei tecnici del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Crotone prosegue senza sosta proprio per cercare di dare un nome a tutte le vittime della tragedia, nonostante i corpi siano rimasti per oltre 15 giorni in balia del mare, siano ormai irriconoscibili. Gli agenti stanno così esaminando con cura ogni particolare, dagli abiti rimasti addosso ai cadaveri, ad eventuali gioielli come orecchini o anelli ed anche segni particolari come tatuaggi. Non si fermano intanto le ricerche dei dispersi che proseguono nella zona del naufragio lungo una linea di costa di oltre 13 chilometri, considerato che oggi sono stati recuperati appunto due corpi che si trovano su direzioni opposte, uno verso nord nella zona tra Steccato e Praia Longa, l'altro invece in modo più a sud, dopo del fiume Tacina. All'appello mancherebbero ancora 21 persone, sedele quale sono bambini, secondi dati resi noti dell'ufficio Immigrazione della Questura di Crotone, che ha interpellato i superstiti riuscendo così a quantificare quanti dei loro familiari non si trovano. Ma a questo numero si potrebbero aggiungere anche persone disperse che viaggiavano da sole. Ed è arrivata nel porto di Reggio Calabria la nave della Guardia Costiera 18 con a bordo 589 persone, in gran parte migranti provenienti da Lampedusa, fra loro donne e bambini. La nave con destinazione Reggio partita da Lampedusa e la Prefettura di Agrigento ha lavoro per pianificare gli ulteriori trasferimenti dalla struttura, che può contenere poco meno di 400 ospiti. Le operazioni di sbarco a Reggio sono state coordinate dalla Prefettura. Sul molo anche il personale di Frontex. Dopo lo sbarco i migranti saranno trasferiti secondo il piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno in altre regioni già individuate. Non è del tutto escluso che qualche nucleo familiare possa restare in Calabria, ma non a Reggio Calabria. I carabinieri nella piana di Gioia Tauro hanno denunciato un uomo di 48 anni per atti persecutori e diffusione di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito il cosiddetto revenge porno. I carabinieri nella piana di Gioia Tauro al termine di un'attività di indagine condotta con il coordinamento della Procura presso il Tribunale di Palmi hanno denunciato un 48enne per atti persecutori e diffusione di immagini e video a contenuto sessualmente esplicito il cosiddetto revenge porn. Nello specifico dalla ricostruzione della vicenda emersa dagli esti investigativi, l'uomo successivamente alla separazione della ex moglie si sarebbe reso autore di alcuni messaggi anche a contenuto sessuale inviati in più circostanze persino alle amiche al datore di lavoro della donna e si sarebbe avvalso inoltre dei dati della vittima per creare profili online in siti di incontri a scopo sessuale. L'attività di indagine in particolare è stata avviata a seguito di una delle diverse denunce presentate dalla donna che in più occasioni si era rivolta alle stazioni dei carabinieri del comprensorio gioiese per chiedere aiuto. Dalla successiva attività delegata dalla Procura di Palmi i carabinieri hanno potuto sequestrare diverso materiale informatico rinvenuto presso l'abitazione del denunciato nel corso della perquisizione domiciliare che ovviamente verrà esaminato al fine di verificare la presenza di eventuali ulteriori elementi di riscontro. Sull'autovettura in uso alla donna invece è stato trovato persino un localizzatore GPS che sulla base delle ipotesi investigative sarebbe stato utilizzato dall'uomo per monitorare gli spostamenti delle ex moglie. Trattandosi di un provvedimento in fase di indagini preliminari ovviamente non si escludono anche ulteriori sveluppi nelle fasi dibattimentali. In ogni caso l'uomo è stato denunciato per revenge porn. Incidente mortale sull'A2 del Mediterraneo. Una donna di 56 anni è morta in uno scontro tra un'auto e un mezzo pesante della Marina Militare avvenuto sulla carreggiata a nord dell'A2 autostrada del Mediterraneo in prossimità dello svincolo di Rosarno nel Regino. La donna era alla guida della vettura che per causa in corso di accertamento si è scontrata con il mezzo pesante. Due persone sono rimaste ferite. La donna, soccorsa dal personale del 118, è deceduta prima che l'ambulanza raggiungesse l'ospedale di Polistena. Sul luogo dell'incidente è intervenuta per i rilievi la polizia stradale. Il traffico ha subito dei rallentamenti. Sul posto anche il personale dell'ANAS, impegnato nella gestione e nel ripristino della viabilità. E' partita la mobilitazione per dire no al parco eolico di San Vito sullo Ionio. Presentata a Chiaravalle, la manifestazione è che si terrà domenica prossima, proprio nei luoghi dove dovrebbe sorgere l'impianto. Una grande manifestazione per la tutela del territorio contro l'eolico selvaggio che ha deturpato il paesaggio della regione, nello specifico per difendere la montagna di San Vito sullo Ionio, da un progetto di parco eolico che si è attuato, darebbe il colpo di grazia a un comprensorio già marturiato dal punto di vista ambientale e non solo. L'evento del prossimo 19 marzo a San Vito, promosso da decine di associazioni fra le quali WWF, CAI, LIPO, Italia Nostra e coordinato da Terra e Libertà Calabria, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Chiaravalle presso la sede del GALS R Calabresi. Il recente diniego della regione al progetto del parco eolico nel vicino comune di Monterosso ha dato speranza alla popolazione dell'area che non vuole rassegnarsi. Siamo in tanti, vogliamo essere molti a dire quella che è la nostra posizione su una realtà complessa, qual è quella calabrese, dove moltissime montagne imperversano progetti di parchi eolici che noi consideriamo assolutamente pericolosi, perché vengono messe in discussione le basi della tenuta territoriale delle nostre comunità, ma anche il futuro delle nostre generazioni. E quindi l'invito è a partecipare a questa importantissima manifestazione, ad unirsi alle tante sigle, ai tanti movimenti, ai tanti gruppi che si ritroveranno a San Vito per celebrare una giornata a favore della natura senza alcuna strumentalizzazione politica. L'appuntamento è per domenica alle 9 del mattino in piazza Casarinova, San Vito sullo Ionio. Dopo il raduno è previsto uno spostamento in auto al lago Acero e una passeggiata di 8 km fra andata e ritorno per arrivare a passo Napoli sui sentieri nei boschi che verrebbero cancellati dal progetto del parco eolico. Il tutto fra discussioni e musica, i momenti di convivialità con la colazione del sacco prevista per chi lo vorrà proprio al lago Acero alla fine della manifestazione. Il sindaco e l'amministrazione comunale di Gioia Tauro attraverso un manifesto affisso per le vie della città dicono no alla mafia. Sindaco, lei lancia una sfida contro l'Andrangheta, contro le mafie. Ecco, basta no alle mafie qui a Gioia Tauro, ecco, dopo tutti gli accaduti che sono succesi. C'è una recrudescenza della presenza dell'Andrangheta a Gioia Tauro che va contrastata e combattuta. E quindi anche noi come istituzione dobbiamo alzare il livello di guardia e chiamare all'appello anche l'intera società civile a reagire e a prendere posizione contro questa presenza asfissiante dell'Andrangheta che limita le libertà degli imprenditori e toglie il futuro ai nostri giovani gioiesi e danneggia l'economia e impoverendo la città. Quindi noi abbiamo la necessità di una ripresa della lotta contro l'Andrangheta e la criminalità organizzata a Gioia Tauro da fare con le istituzioni, con l'intera società civile, con le forze politiche e sociali e con tutte le associazioni libere che esistono a Gioia Tauro. Ecco, lo Stato c'è perché ha dato una bella risposta nei giorni scorsi con i 50 arresti che ha fatto qui a Gioia Tauro? La magistratura e le forze dell'ordine sono da tantissimi anni impegnate tanto è vero che sono state moltissime le indagini portate avanti e ci sono state anche sentenze di condanne nei confronti degli indiranghettisti gioiesi. Il problema è che la magistratura non si può sostituire alla società civile e al cittadino quindi c'è un compito della magistratura e delle forze dell'ordine che stanno portando avanti con impegno e abbenegazione. Il resto lo dobbiamo fare noi, dobbiamo reagire, dobbiamo isolare i mafiosi e fargli capire che questa è la nostra città e non la loro città, che questo è il nostro territorio e non il loro territorio, che qui vige la legge dello Stato e dell'istituzione e non la legge dell'antistato. I cittadini a questo l'hanno capito? I cittadini hanno bisogno di istituzioni attente che costruiscono un percorso assieme a loro e noi dobbiamo assieme costruire un percorso di libertà e di liberazione che ci possa permettere di garantire un futuro alle nuove generazioni. Lo Stato c'è sempre stato, sono tantissime le sentenze passate in giudicato. Il compito è della società civile e quindi noi dobbiamo creare le condizioni perché ci sia da parte della società civile un coraggio collettivo e una maggiore partecipazione per difendere la democrazia sul territorio, per difendere le libertà di tutti e per creare le condizioni di un nuovo sviluppo sociale ed economico di Gioia Tauro e del territorio. Fondazioni Trame e Associazioni Anti-Racket La Mezzia, ALA, congiuntamente ai familiari delle vittime, hanno depositato alla Procura della Repubblica di Catanzaro all'attenzione del Procuratore Nicola Gratteri l'istanza di riapertura delle indagini relativo all'attentato definito terroristico-mafioso che si è consumato alla Mezzia Terme nel 1991, una richiesta che da seguito all'appello lanciato in occasione della trentennale dell'uccisione dei due netturbini, Pasquale Cristiano e Francesco Tramonte, vittime innocenti di indrangheta. Il decreto legge per il ponte sullo stretto di Messina dovrebbe entrare fra i provvedimenti all'esame del Consiglio dei Ministri di giovedì, ma contro la costruzione del ponte in tanti hanno dato voce, soprattutto all'assoluta contrarietà ad un'opera dannosa, devastante dal punto di vista ambientale costosissima e inutile sia per la Calabria che per la Sicilia. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Graziano Tomarchio a Michelangelo Tripodi, fino al 2010 assessori all'urbanistica e al governo del territorio della Regione Calabria. Guardi, io ho fatto, come lei ha ricordato, anche l'assessore all'urbanistica per 5 anni e in quegli anni in cui io sono stato assessore all'urbanistica dal 2005 al 2010, noi abbiamo realizzato per la prima volta nella storia della Regione Calabria il quadro territoriale regionale e paese aggistico, un quadro che dava l'idea complessiva dello sviluppo della nostra Regione, ma anche dello sviluppo urbanistico. Abbiamo, non per una scelta ideologica, ma per una scelta maturata rispetto alle condizioni concrete, alla realtà del territorio, escluso un attraversamento stabile dello stretto di Messina per quanto riguarda la Regione Calabria. Questa fu una scelta che i tecnici di valore, prestigiosi, ovviamente insieme all'amministrazione che aveva allora la direzione politica, io ero l'assessore, c'era il presidente della Giunta regionale allora all'Oiero, ma tutta la Giunta regionale aveva assunto questa posizione. La posizione di chi dice, noi non possiamo immaginare di buttare miliardi e miliardi di euro in un'opera che è un'opera che può produrre anche disastri ambientali, che è, diciamo, enti qualche mese fa il terremoto disastroso, catastrofico che ha portato 50.000 morti tra la Siria e la Turchia, dall'altra parte del Mediterraneo, ma noi sappiamo che lo stretto di Messina è attraversato da una faglia attiva e sappiamo anche che, come dire, non esiste in nessuna parte del mondo un ponte sospeso della lunghezza di oltre 3 chilometri, figuriamoci in una zona altamente sismica, mi pare che la massima campata senza piloni non arriva nemmeno a 2 chilometri, quindi sarebbe da fare un salto straordinario in termini anche di ingegneria e di tecnica delle costruzioni, ma in una condizione nella quale c'è, un ostacolo insolmontabile che deriva appunto dalla condizione specifica geologica del territorio. Quindi io credo che noi abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno di migliorare la situazione delle infrastrutture viali e stradali a partire dalla 106, lei a Roccella è stata realizzata, l'unica parte, diciamo, più o meno percorribile, appunto, quella bretella che si fece negli anni in cui io ero allora assessore e fu finanziata, quella bretella che va oltre Roccella, per il resto però la strada statale della 106 Ioni che è rimasta quella che viene definita in larghi tratti la strada della morte. Allora noi abbiamo bisogno di un grande investimento, com'è possibile che in Calabria non si fa una, non la strada di 106, si dovrebbe fare l'autostrada della Ionica, io ho sempre sostenuto l'idea, c'era questo progetto anche nel quadro territoriale regionale. Su iniziativa di Gianluca Passarelli, professore ordinario alla Sapienza di Roma e di Pari dell'Eporaci, giornalista e scrittore, è stata promossa una petizione pubblica per intitolare l'aeroporto regionale di Lamezia Terme a Corrado Alvaro. Durante una conferenza stampa in programma venerdì verranno illustrati i risultati dell'appello, le azioni promosse e quelle future per alimentare una discussione il più possibile unitaria per raggiungere lo scopo. Andiamo avanti con il nostro giornale. Presso la sala Sant'Agostino della parrocchia di Santa Rita è stato organizzato un convegno dal tema Il lavoro ammalato, diagnosi e possibili terapie è organizzato dall'Arcidiocesi di Crotone e Santa Saverina e l'Ufficio Pastorale e Sociale del Lavoro per discutere sulla situazione del lavoro a sud, in particolare in Calabria. C'è un lavoro ammalato e che va curato. L'Arcidiocesi di Crotone e Santa Saverina e l'Ufficio Pastorale e Sociale del Lavoro hanno tenuto presso la parrocchia Santa Rita il convegno sul tema Il lavoro ammalato, diagnosi e possibili terapie aprendo una riflessione sulla situazione del lavoro al sud e in particolare in Calabria. L'introduzione è stata affidata a Don Pasquale Aceto direttore dell'Ufficio Pastorale e Sociale del Lavoro e poi i saluti del sindaco di Crotone e del presidente della conferenza episcopale Calabra Monsignor Fortunato Morrone. Quando si parla di lavoro in Calabria si parla sempre di ragazzi di giovani però leggendo il tema Il Capo Larato nessuno parla mai degli imprenditori ovvero se questa è una piaga significa che qualcuno è carnefice cosa ci dice al tal riguardo? Certo, lì dove c'è sfruttamento c'è un carnefice questo è chiarissimo il Capo Larato qui da noi ma in tutto nel sud ci dice che tra l'altro che non abbiamo persone nostre che lavorano perché si punta più in alto e quindi si fa diciamo incetta passate con questo termine di lavoratori che possono essere sfruttati ma c'è un lavoro nero che riguarda anche i nostri ragazzi durante l'estate o no? Certo, sull'altro versante anche gli imprenditori anche i piccoli imprenditori fanno fatica perché c'è una tassazione forse esagerata e quindi ognuno cerca di giocarsi un po' la sua pelle quindi è un tema complesso certamente lì dove c'è sfruttamento lì c'è un'ingiustizia quindi il rapporto lavoro-giustizia è un altro grande tema e l'orizzonte è questo insomma Presente anche l'assessore regionale al lavoro Sicuramente c'è una situazione complessa per quanto riguarda il lavoro si parla di disoccupazione si parla di problematiche abbiamo tante risorse da poter utilizzare per poter creare occupazione reale l'obiettivo, l'intento dell'assessorato al lavoro appunto è questo creare queste condizioni creare le giuste sinergie con sindacati, con categorie datoriali abbiamo diversi tavoli aperti abbiamo elaborato nei giorni scorsi e verrà approvata dall'Aggiunta la nuova legge sul lavoro che preda appunto l'osservatorio sul mercato del lavoro l'unità di crisi un piano per il lavoro che manca in Calabria stiamo appunto creando queste condizioni ci stiamo lavorando con impegno confrontandoci con i territori confrontandoci con le istituzioni confrontandoci con le scuole confrontandoci con tutti gli attori attivi e protagonisti di questo cambiamento In conclusione le chiedo secondo lei oltre che parlare di giovani di disoccupazione bisogna parlare dei caporali ovvero sembra che la passino sempre liscia mi passi questo termine Assolutamente sì dobbiamo creare le condizioni per evitare che si ripetano in futuro quello che è accaduto in passato attraverso non solo un'azione di depressione un'azione di polizia ma attraverso un'attenzione alle aziende affinché in un settore delicato e particolare ci sia l'intervento necessario è un fenomeno che si sta attenzionando piano piano per necessità di un intervento strutturale che fino ad oggi non c'è stato e siamo giunti all'ultima notizia il progetto dei Lions Club Vigo Valencia per valorizzare il cippo miliario di Sant'Onofrio ha avuto il suo giusto riconoscimento con la trasposizione dello stesso all'interno delle sale del Museo Archeologico Statale Vito Capialbi Rinvenuto nell'agosto del 1953 in occasione di scavi agricoli nei presidi Sant'Onofrio il cippo miliario della Vienna Pupilia è una colonna di granito alta 80 centimetri la cui importanza come scoperta archeologica finora non è stata celebrata in tutto il suo valore coerente con la sua lunga storia di service e di impegno a favore dell'identità storica della città il Lions Club di Vigo Valencia ha portato avanti un'attività per evidenziare il reale potenziale storico di questo reperto archeologico facendo sì che potesse avere un rinivo maggiore nel contesto delle esposizioni museali e trovando nell'attuale direttore del Museo Maurizio Cannatà un attento interlocutore ed un valido sostegno da qui la decisione di realizzare una nuova sistemazione del cippo nella sede interna al museo considerato che fino ad oggi lo stesso era tenuto all'esterno del castello è stata questa l'occasione per un confronto a più voci con validi esperti del settore che ha visto lo stesso Lions Club di Vigo Valencia quale promotore abbiamo sponsorizzato con una sponsorizzazione tecnica e la valorizzazione di un non bene culturale che è il cippo miliare romano di Santo Onofrio il direttore Cannatà ha messo a disposizione la struttura burocratica noi come la club di Vigo Valencia abbiamo messo a disposizione il nostro know-how siamo riusciti ad ottenere secondo noi un grande risultato una grande partecipazione di pubblico oggi alla manifestazione al convegno a cui hanno partecipato il professore Givigliano e l'ingegnere Presta siamo contenti soddisfatti che il percorso che il club di Vigo sta intraprendendo in questo grande service che adottiamo alla Via Anna Popilia ha raggiunto ha inserito un altro step molto importante per il club ma soprattutto per il territorio vibonese quindi la valorizzazione di un bene culturale che per molti anni è stato messo da parte il club ha avuto credo un'intuizione particolare molto interessante molto utile per la cittadinanza continuiamo in questo senso a lavorare per il territorio e per il museo in particolare a cui teniamo molto è tutto per questa edizione grazie per aver seguito il nostro TG ora spazio alle notizie dall'Italia e dal mondo altri cinque corpi senza vita sono stati trovati nell'area del naufragio di migranti avvenuto il 26 febbraio scorso a Steccato di Cutro si tratta di due bambini e di tre adulti di cui ancora non si conosce l'età salgono così a 86 le vittime accertate del naufragio intanto oggi alla Camera nel primo question time di Giorgia Meloni la Premier rispondendo ad un'interrogazione su quanto avvenuto sulle coste della Calabria sottolinea su Cutro e sulla questione migranti o la coscienza a posto e all'opposizione che sulla questione ha attaccato duramente il governo dice quello che mi colpisce colleghi è che per fini politici si finisca per mettere in discussione l'onore e l'operato di chi ogni giorno rischia la propria vita per salvarne altre e si finisca per calunniare l'Italia intera che da sola affronta questo dramma spesso anche per conto delle altre nazioni offrendo strumenti a chi vuole continuare a scaricare tutto il peso del problema su di noi invece di assumersi le proprie responsabilità domani mattina la Premier dopo le polemiche sulla macchina dei soccorsi riceverà a Palazzo Chigi i familiari delle vittime sui mercati non si placa l'effetto Silicon Valley Bank a cui si aggiunge anche il crollo di Credit Suisse borse europee in caduta libera ieri il tentativo di recupero dopo il crack della banca californiana oggi un'altra giornata nera con la disfatta dei titoli bancari lo stock 600 l'indice che raggruppa le principali società quotate in perdita del 2,7% la nuova ondata di vendita è stata alimentata dal crollo in borsa di Credit Suisse dopo che il principale azionista Saudi National Bank ha escluso la possibilità di fornire supporto finanziario in caso di ulteriori richieste di liquidità piazza affari è arrivata a perdere il 4% gli occhi sono rappuntati sulla riunione di domani della BCE che dovrà decidere sulle future politiche monetarie e sul nuovo rialzo dei tassi buone notizie sul fronte dell'occupazione secondo l'Istat la percentuale degli occupati nel 2022 è salita dell'1,9% rispetto al 2021 e ha raggiunto il 60,1% in un anno 545.000 unità in più sull'anno precedente e si torna ai livelli del 2019 positivo anche il dato della disoccupazione sceso nel 2022 all'8,1% con una flessione dell'1,4% rispetto al 2021 nell'anno aumentano del 4,7% le posizioni dipendenti e diminuisce il ricorso alla cassa integrazione la guerra in Ucraina scivola verso un ulteriore escalation da aprile Mosca recluterà 400.000 soldati il ministero della difesa secondo diversi media ha inviato ordini alle regioni per rinforzare l'esercito con militari a contratto il Kremlin smentisce mentre cresce la tensione sul Mar Nero dopo la collisione tra un caccia russo e un drone statunitense il capo della missione russa Washington invita a fermare i voli ostili vicino ai confini ma sicura di voler mantenere aperte le linee di comunicazione intanto jet britannici e tedeschi intercettano un aereo militare russo vicino allo spazio aereo dell'Estonia confermare le condanne già emesse in appello è questa la richiesta del sostituto procuratore generale della Cassazione Francesca Loi nel processo a Finegan Lee Helder e a Gabriel Natale York i due statunitensi che il 26 luglio del 2019 a Roma hanno ucciso a coltellate il vice brigadiere dei carabinieri Mario Cercello Rega speriamo che la Cassazione confermi l'appello ha affermato il legale della moglie la corte d'assiso d'appello aveva condannato i due rispettivamente a 24 e a 22 anni di reclusione una pena già più bassa rispetto a quella emessa in primo grado in cui i due americani erano stati condannati all'ergassolo una menza scolastica su tre in Italia è irregolare ad evidenziarlo una serie di controlli operati dai carabinieri del NAS d'intesa con il ministero della salute in 1058 aziende di ristorazione di tutta Italia operanti all'interno di menze scolastiche di ogni ordine e grado dagli asili nido fino agli istituti superiori sono risultate irregolari circa un terzo di esse sono state accertate 482 violazioni penali e amministrative nella gestione degli alimenti e nelle condizioni igieniche nei locali di preparazione dei pasti dell'interno